Concessionari all'auto, a novembre, superrottamazione. Annata eccezionale in tutti i sensi per i viticoltori di casa nostra. Prima una vendemia da incorniciare, con oltre 40.000 quintali di uva raccolta e di ottima qualità. Ora una delle notizie più attese dal mondo vitivinico allo locale, il riconoscimento dei muretti a secco come patrimonio immateriale dell'umanità. Si brinda in casa di Provinea, ma anche in quella del consorzio Tutella Vini Valtellina, forte di 49 produttori, grandi e piccoli. Entrambi ieri hanno riunito i loro consigli di amministrazione e c'è chi è arrivato con un'ottima bottiglia di biancomosso, rigorosamente DOC, per festeggiare. È un momento di grande soddisfazione, di grande gioia per un risultato veramente molto molto importante. Quindi in questo momento vogliamo anche un po' gioire di questa bella notizia, che però deve rappresentare a mio avviso un po' un punto di partenza, non un punto di arrivo. Sicuramente questo sarà uno strumento che in futuro ci darà delle ottime possibilità per tutelare questo equilibrio anche delicato che è rappresentato dai muretti a secco. Quindi ecco, sicuramente una grande opportunità per la tutela di questo patrimonio meraviglioso. E lo stesso hanno fatto i viticoltori valtelinesi, abituati al duro lavoro in vigna, incessante, quotidiano, capace di impegnare l'estate-inverno senza soluzione di continuità. Anche loro hanno accolto la notizia, assicura Reinaldi. Con grande gioia, con grande entusiasmo. Io credo che un po' anche tutta la popolazione aspettasse questa bella notizia. Sapendo però che ora toccherà ancora rimboccarsi le maniche, pensare al modo migliore per cavalcare questa bella opportunità e trasformarla in autentico valore aggiunto per le nostre produzioni vitivinicole, con ritorno magari anche sul prezzo di mercato. Qui dobbiamo pensare agli strumenti da mettere in campo per preservare questo stupendo patrimonio. Ecco, un riconoscimento non è sufficiente, ci vogliono appunto delle azioni che poi supportino effettivamente il viticoltore nella ricostruzione dei muretti a secco o nel mantenimento di questi, quando i muretti danno così segni di cedimento. Opportunità di sviluppo futuro anche sul piano turistico, come ha ricordato in una nota stampa Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda. La decisione dell'UNESCO ha detto «Rafforza il mio impegno nel recuperare tradizioni e piccoli borghi e valorizzarli dal punto di vista turistico». Lo splendido paesaggio creato dai muretti a secco può essere l'occasione per dar vita ad un turismo slow e green legato a luoghi rurali di particolare bellezza. I muretti a secco quindi, conclude Magoni, costituiscono un volano importante per l'economia locale.